Buongiorno, benvenuti alla sede slab di oggi, domenica 2 settembre, vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Intanto ovviamente tutti quanti i giornali parlano delle questioni economiche, perché siamo adesso a settembre, saremo nel momento in cui si vedranno veramente i conti e come verranno fatti la finanziaria e i documenti di aggiornamento dei conti pubblici in Italia. La trincea di Tria è il principio che un po' tutti quanti i giornali oggi tirano fuori, mi sembra che soltanto Repubblica lo intervisti, è una di quelle che ho interviste un po' se mi passate il termine fake, perché quello che dice in Cina dove ci sono tutti quanti i giornalisti che lo seguono è più o meno quello che dice nell'intervista, quindi più o meno dice le stesse cose. Le cose che dice sono che lui sarà molto rigoroso sui conti, manterrà, e questi sono in descrizione addirittura il deficit dal 2%, dovrebbe essere l'1,9%, quindi voi sapete che abbiamo un limite al 3% e lui lo mantiene addirittura al 2%, perché il percorso italiano di contenimento dei costi è ovviamente sempre molto più rigoroso degli altri per il fatto che noi abbiamo un debito pubblico molto superiore e soprattutto i tassi di interesse in Italia e non in Italia sono condannati ad aumentare. Nonostante la debolezza italiana, un'altra cosa fondamentale che in pochi dicono, è che i tassi di interesse sono aumentati negli Stati Uniti, continueranno ad aumentare in Europa, l'inflazione è un po' aumentata, quindi nonostante l'Italia possa più o meno far bene, i tassi di interesse e quindi i tassi sul nostro debito pubblico aumenteranno. Certo, poi ti vai a leggere, oggi lo ricorda Repubblica, il commercialista che ho incontrato ieri sera in un incontro a Bergamo che si occupa degli affari regionali per la Lega che ci spiega che è un bene che i tassi di interesse aumentino, insomma tanto bene per chi ha un mutuo importante come l'Italia, lo capisce anche un bambino piccolo così non c'è. L'altra cosa che mi diverte è che tra le varie cose che dice i giornali mettono in evidenza il fatto che Tria dica si deve fermare la spesa e il messaggero, sempre attento alle questioni ministeriali, dice come la fermiamo alla spesa pubblica? Semplicemente non aumentando le risorse per i ministeri, cioè basta non aumentare le risorse per i ministeri che di fatto si ha un taglio della spesa pubblica perché sono previsti degli aumenti di spesa. Uno di questi, mi chiedo e non si è chiesto nessuno a Tria, toc toc, ministro Tria, come la mettiamo con la ministra, buongiorno, quella là, vi ricordate quella che stava prima con Fini e poi con Monti e ora con la Lega che ha detto che vuole assumere 460.000 dipendenti pubblici? Come funziona? 460.000 dipendenti pubblici vuol dire che la Apple italiana, cioè la pubblica amministrazione dovrebbe assumere 460.000 persone e nel contempo mantenere le spese in linea con quelle dell'anno scorso. Boh! Il Sole 24 Ore riguardo alla quota 100, la riforma famosa della legge Fornero che il governo vorrà fare perché nel suo contratto di governo e tutti lo sbandierano come novità di questa finanziaria, secondo il Sole 24 Ore di oggi scende dai 7-8 miliardi previsti di maggiori costi a 2,5 miliardi, il che vuol dire che questa benedetta quota 100, cioè 41 anni e 59 anni di contributi e 59 anni di età pensionabile o comunque combinazioni che più vi piacciono a voi, beh insomma questa quota 100 in realtà, la più tipica è 65-35, questa quota 100 non varrà per tutti, se no dovrebbe costare 7,3-7-8 miliardi, mentre il governo pare che ne metta 2,5. Che altro dice? Non voglio sfondare il deficit nell'intervista a Repubblica e dopo la manovra vedrete, dice assicuratria su Repubblica lo spread diminuirà. Direi che per l'economia è tutto, quasi tutto perché c'è un altro tema che è borderline tra economia e politica è questo Nord irrequieto, ieri ne abbiamo parlato sulla stampa, se ne parlava degli imprenditori veneti che vogliono scendere in piazza, oggi Tajani sul Corriere si accoda dicendo anch'io ci sarò in quella piazza degli industriali per il crollo dei consumi, soprattutto il decreto dignità che è un disastro e il Nord va in piazza, è il titolo del giornale di oggi. Sia la stampa, sia Bisignani che devo dire che è stato il primo a scriverlo sul tempo, continua a scriverlo anche oggi parlando del ponte di Tim, dell'MIT italiano, cioè della grande università tecnologica genovese che è stata rasa al suolo nei suoi rapporti internazionali per quel ponte, insomma oggi anche la stampa ci dice che ci sarebbe una fortissima tentazione da parte della Lega di andare alle elezioni anticipate, ma Tria è un comico come grillo? No, Tria non è un comico come grillo, è quello che sta rappresentando l'Italia e in Cina che è uno dei mercati più importanti dell'Italia, tra l'altro una delle domande che gli fanno è ma come mai? La Cina deve comprare i nostri titoli, in realtà siamo noi che abbiamo comprato i titoli cinesi e Tria risponde per diversificare il nostro portafoglio. Sulla questione Lega, lezioni anticipate, qualche cosa ci deve essere oltre alle indiscrizioni di Bisignani, prima di averle dette, la stampa, il giornale e tanti altri che si sono accodati, perché oggi lo vedete all'umore di travaglio nelle ultime settimane nei confronti di Salvini? Beh l'umore di travaglio nei confronti di Salvini è un umore fetido, nero, di chi ben hanno usato che le elezioni stanno per avvicinarsi, se c'è un termometro che ci dice che qualcosa sta avvenendo è il fatto che è ritornato in campagna elettorale, campagna elettorale come sempre ha fatto lei, che vuole fare uno spostamento a sinistra del Movimento 5 Stelle rispetto a uno spostamento, se mi semplificate, a destra con la Lega. Salvini oggi drammatizza il tema degli sbarchi, scrive travaglio, che sono ridotti a lumicino, perché nessuno gli chieda conto delle promesse passate in cavalleria. Ma travaglio è una cosa pazzesca, primo il fatto che siano andati a lumicino questi sbarchi è ancora di più merito o demerito, se voi non la pensate come Salvini, del governo e delle uscite di Salvini. Quindi direi che è una cosa banale quella di dire sono a lumicino, sì sono a lumicino perché lui ha contribuito a renderle a lumicino e si è preso anche un bel avviso di garanzianze, una bella indagine a suo carico per sequestro di persone. Ma la cosa incredibile è che si attacca Salvini perché lui si occupa di immigrazione, perché le altre promesse sono passate in cavalleria. Ma la prima grande promessa di Salvini in qualsiasi campagna elettorale, ve lo dico io perché ce l'ho avuto ospite come lui e tanti altri, una ne diceva in maniera monotematica, la seconda la vediamo tra poco, e cioè stop all'immigrazione, lo prendevano tutti i berifondelli, l'immigrazione, il merito australiano eccetera, quello va al governo, fa sta roba e gli accusi che se fa questa roba è perché non vuole rispettare le promesse. È esattamente come fece Trump la risposta più stupida e quella che da oggi travaglio alla posizione di Salvini. È l'unico a cui non si può attaccare, di una roba che ha detto in campagna elettorale, un giorno sì, un giorno no. Altra questione fondamentale che ha detto in campagna elettorale, me lo ricordo io con Virus ne parlammo anni fa, sono le occupazioni abusive delle case popolari, ma io aggiungo ovviamente, vi interessa poco, le occupazioni abusive di tutto, va bene? E su questo pare, alcuni giornali lo mettono in prima pagina, gli danno grande evidenza, altri ne fanno una breve, il Corriere della Repubblica, questo dà sempre il senso di quanto i giornali capiscono quello che la gente vuole sentire in questo momento. Una breve rispetto a una notizia importante. Viminale avrebbe fatto una circolare per la quale le occupazioni sono finite. Anche qui è un po' cambiato rispetto allo stile passato in cui in realtà per necessità si poteva occupare le case dell'Aler. Poi questi saranno dei populisti, faranno schifo. Io la vedo ancora una grande distinzione tra destra e sinistra, più che tra establishment e popolo, perché questa è stata una grande posizione, voglio dire, della destra storica. La proprietà privata ha un valore, chiaro? E quindi la proprietà privata non si può, come possiamo dire, scalfire. Questa è una grande distinzione che c'è forse dal 1700 tra proprietà privata e proprietà collettiva, ma lasciamo perdere. Oggi questo è su tutti quanti i giornali. Il PM sul Corriere della Sera che ha indagato la Lega e che l'ha condannata e che sta per condannarla in primo grado se non ci fosse un'attesa nei confronti del Tribunale del Riesame, sui 46 milioni che deve la Lega pagare in attesa della sentenza totalmente definitiva, dice che se la Lega dovesse cambiare nome e cognome è ovvio che io non posso più sequestrare nulla. Mi sembra una banalità. Meno banale quello che scrive Luca Fazzo oggi sul giornale, perché chi becca Luca Fazzo sul giornale? Becca il procuratore, padronaggio di Agrigento che ha indagato Salvini come se fosse il mostro di Loch Ness, beh, e becca chi becca un avvocato che dice dal PM che vuole arrestare Salvini, io sono stato arrestato ed innocente. Sono innocente, ha verificato che io sono innocente, ma sono stato arrestato da questo padronaggio che deve avere, diciamo, come possiamo dire, le manette un pochino facili. Poi ci arrivo a McCain, l'altra cosa che mi piace moltissimo di oggi è, mi sono letto il reportage del Fatto Quotidiano, scandalo, l'apertura del Fatto Quotidiano, Gran Premio di Monza, Forza Ferrari, dico io, loro dicono abbiamo speso 150 mila euro per i soliti ospiti e i grillini si rifiutano di andare al Gran Premio di Monza, anche questa grande campagna elettorale. Allora, vado a leggere il pezzo, e cos'è il pezzo? Hanno ospitato quelli dell'Ash per il Gran Premio di Monza un po' di gente, dove l'hanno ospitata qua a Milano? Beh, uno dice, cazzo, hanno fatto sto scandalo, prima pagina, al Four Seasons, al Parcaiat, l'hanno ospitati al De Milan, l'hanno ospitati, non so, nei grandi alberghi di Milano, come uno poteva immaginare, non so, l'Eccelsior a Roma, il Grand Hotel, al De Russie, non so, nei posti fighi, in cui dici lo scandalo, tappeto rosso, che scandalo, che stiamo ospitando questi misiti, non so chi so, funzionari sconosciuti, di cui non me ne fotta assolutamente nulla, sono stati ospitati, no, al Michelangelo, al Michelangelo, un Quattro Stelle, al Michelangelo, e pensate un po' voi, hanno affittato anche un Pullman per portarli al Gran Premio. Allora, io l'idea di questi funzionari di Stato, tutti dentro al Pullman, per andare al Gran Premio di Monza, questo è il grande scandalo italiano, 130.000 euro, oggi è l'apertura e i grillini però non partecipano. Voglio dire, non ho simpatia nei confronti di chi va a sbafo a fare lo scrocone con i soldi dell'ACI, di cui, voglio dire, ha soldi pubblici sì, ma è un'azienda che mi sembra che possa gestirsi privatamente e non ha mai avuto, non riesco a trovare grande scandalo in questo. C'è l'evento più importante d'Italia, di automobilismo, e se l'ACI che l'organizza, nel Comitato Organizzatore, invita 100 persone, 50 persone, 80 persone, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Vabbè, comunque, la vita è questa, mentre Salvini sta inventandosi le scuse perché fa immigrazione e occupazioni, loro vanno sul nucleo concreto e forte di quello che è lo scandalo di questo paese, che è l'hotel Michelangelo. Per carità, meglio non andarci, forse. Ma il vero punto della giornata, parliamoci chiaro, è la questione Fedez-McCain. Perché le metto insieme? Perché tutti i giornali oggi si occupano del matrimonio di Fedez, foto in prima pagina, il quotidiano nazionale, la foto, lei col vestito bianco, lui in smoking, tra l'altro lo smoking non si mette da mattina, ragazzi, lo smoking si mette di sera, lo smoking di mattina lo fai mettere al barista, non lo fai mettere a uno che si sposa, ma lasciamo perdere lo smoking di mattina. Vabbè, comunque, Fedez si sposa a Noto in un posto straordinario in Sicilia e succede un casino. Prima l'Alitalia, che peraltro se lo paga lui, poi le gate, poi dopo le foto, poi tutto questo sapore, figuratevi un po' voi se io devo difendere Fedez e la Ferragni, questo sapore è come questi cafoni, questi populisti, questa gente di Instagram, e tu vedi questa specie di grande panna montata sul fatto che ci sono due star, che vi piacciono o non vi piacciono, la Ferragni si è beccata la copertina dei Forbes, e io non me la sogno manco col cavalletto, e quell'altro è un rapper che vende un botto di dischi. Allora, è un classico, ti posso piacere o non ti posso piacere, ma esiste. Da questa parte c'hai questi due e che fanno schifo, fanno cagare. E dall'altra c'hai l'eroe di guerra, che io adoro, perché io se mi dovete mettere da una parte, mi mettete più dalla parte di McCain, non certo quella di Fedez e Ferragni, ma McCain improvvisamente nei giornali progressisti è diventato un mito. McCain lo dovrebbero odiare i giornali progressisti, McCain è quello del Vietnam, è quello delle bombe, è quello della destra, è quello che si è opposto a Obama, è quello che aveva Sarah Palin come sua candidata vicepresidente. Vi ricordate Sarah Palin che faceva? Si è fatta la campagna elettorale mentre sparava al muflone in Alaska perché lei è una per le armi, che i giornali progressisti ci hanno fatto due palle così. Sarah Palin è la Tea Party, è quella che vuole la flat tax ma in America, è una trampiana anti-litteram. Adesso l'idea che c'hai da una parte, McCain, il discorso di Obama, il mondo fico, dall'altra c'hai l'Italia sfigata di Fedez. A me questo mi fa impazzire perché dice Bibiana, giustamente la romana, i paradossi della vita. Il paradossi della vita è che io debba fare questa distinzione che non sto per McCain ma sto con Fedez, ma non me ne fotte nulla di stare per uno o per l'altro, è semplicemente il racconto che ne fanno i giornali che mi fa impazzire. Quelli sono dei populisti, quello sì è il grande progressismo americano. Quando McCain, i giornali progressisti, fino a poco tempo fa i giornali del PD, i giornali della sinistra ce l'hanno raccontato come una specie di fascistoide americano. Poi che aveva un tratto da galantuomo e da gentiluomo, se lo ricordano in pochi, anche se la questione della moglie mi sembra che i giornali di sinistra l'hanno ricordata bene, la moglie di miliardaria che lui ha sposato in seconde nozze mollando la sua prima moglie incidentata. Mettiamola così, sul Repubblica, me la ricordo bene questa ricostruzione. Ma sulle questioni, sui giornali di tutto questo vi parlo perché ci sono mille pezzi, vi leggo soltanto uno, quello di Stefano Bartezzaki che non mette in relazione Fedez con McCain ma la mette in relazione con Arita Franklin, il funerale, il funerale della Franklin e il matrimonio di Fedez. La Franklin d'altronde lo stesso Bartezzaki molto correttamente oggi su Repubblica dice a un certo punto mi ricordo di una foto che hanno tirato fuori recentemente su Instagram in cui dicevano ah che bello Gianni Buoncompagni giovane, ah che bello Renzo Arbore con la sua amica di colore accanto, era Rita Franklin. Quindi adesso siamo diventati il mondo dei conoscitori del mondo della musica soul americana. Insomma molto divertente il pezzo di Bartezzaki in cui dice l'unica cosa che non mi spiego non è tanto la celebrazione di Fedez o dei matrimoni che ci sono sempre stati ma il fenomeno Ferragni. L'ultima cosa che vi racconto è pazzesca perché oggi è sul mattino ma veramente vale la pena di vederlo, se riuscite guardatelo. Il giornale di Napoli ha una sequenza di sei foto in prima pagina, nel taglio alto di prima pagina in cui si vede l'omicidio di una persona in scooter. Scende dallo scooter, gli sparano, la moglie scappa col cane, poi dopo la moglie ritorna, prende lo scooter e se ne va. Nel frattempo viene visto da tutta una serie di persone e questo omicidio c'è l'omertà totale, nessuno sa che ha sperato. Evidentemente dalle foto si capisce che ce n'erano decine di persone, comprese la moglie, compreso il cane che parla, compreso i tanti vicini che hanno visto esattamente tutta la scena dell'omicidio. Italiani, Napoli, 2018, una roba, anzi 2017 scusatemi, sono di 2017. Allora quello che questo ci fa forse un po' comprendere è come, ogni tanto in questo ovviamente lo dico come sapete da convinto di un'emergenza in realtà in questo paese, criminalità che non ha direi razze, padroni, colori, ma che ha certamente una mano d'opera che può essere molto rinforzata da questi innesti esterni, ma l'idea di quello che vedete oggi sul mattino vi fa capire come in realtà l'Italia e i suoi italiani, in certi suoi quartieri, cioè i suoi belle gatte da pelare sul mattino di oggi. Se vi piace questa zuppa condividetela, ricordatevi che siete tutti invitati al matrimonio di Fedez e Ferragni, andateci a noto, ciao!